bene 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 eccoci qua eccoci qua e il tema è dopo quanto tempo un uomo sente la tua mancanza come far sentire la mancanza un uomo e dopo quanto tempo lo sente ora intanto ti ricordo di iscriverti ai miei canali youtube canali youtube massimo termasco canali youtube crescita personale con massimo tramasco felicità benessere molto stima vatti a iscrivere a tutti i canali attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e veniamo al tema intanto ovviamente seguimi anche su instagram seguimi anche su tik tok ti ricordo che chi volesse entrare nella chat del canale massimo terramasco basta che con un caffè al mese si abbona e poi entri in chat e conosce persone inoltre ricordo ancora che chi volesse si iscrivesse a tutte e quattro i canali youtube gratuitamente ovviamente può potrà poi far parte di gruppi telegram dove conoscere persone interessanti sempre gratuitamente invece che volesse approfondire diciamo chi volesse approfondire il degli argomenti ci sono delle come possiamo dire degli abbonamenti che consentono questo quindi ti puoi abbonare ai canali e ci sono diverse cose ma veniamo al tema veniamo al tema il tema è quello di diciamo dopo quanto tempo un uomo o una donna sentono la tua mancanza perché diciamo questo che uno dei parametri che le persone utilizzano per capire se sono innamorati è quello di sentire la mancanza di una persona cioè più sentono la mancanza più percepiscono di essere innamorati quindi fondamentalmente questo è un bias è un meccanismo automatico che agisce nell'essere umano probabilmente è dato dal fatto che più un qualcosa ti manca viene giudicato prezioso quello che manca viene giudicato prezioso anche perché il sistema di innamoramento è basato soprattutto sul sul sentire proprio la mancanza è basato soprattutto sul desiderio se non desideriamo non possiamo percepire la mancanza di nessuno fondamentalmente quindi il desiderio è il fatto fondamentale che ci consente di far sentire la mancanza quindi far percepire l'innamoramento per cui è molto importante imparare a far sentire la mancanza una persona soprattutto le persone che sono sfuggenti le persone che si allontanano soprattutto le persone che non ti danno quello che tu vorresti perché se qualcuno diciamo se la relazione funziona nel modo giusto e la situazione diciamo si muove in modo corretto allora va benissimo anche come possiamo dire va benissimo anche mantenere lo status quo non cambiare comportamenti ma nel momento in cui tu inizia a percepire che inizia a percepire che c'è qualcosa che non va inizia a percepire che la persona si sta allontanando inizia a percepire che la persona non si sta comportando come tu vorresti quando inizia a percepire un decoinvolgimento da parte di questa persona allora la cosa importante è imparare a far sentire la propria mancanza la cosa importante imparare a distaccarsi e e questo è fondamentale questo è veramente importante e perché dicevo prima ci sono due forme di comunicazione c'è una forma di comunicazione che potremmo definire energetica una forma di comunicazione non verbale una forma di comunicazione verbale quindi la mancanza si sente soprattutto a livello profondo a livello energetico e per questo motivo che molte persone che molte persone sbagliano diciamo ad esempio quando iniziano a fare il no contact perché in realtà non vanno a creare un distacco cioè il distacco potrebbe essere perché loro ob torto collo diciamo si allontanano ma questo non significa nulla fondamentalmente perché se due persone se una persona si allontana ma con la mente è sempre connesso su quella persona ovviamente non riuscirà assolutamente a far sentire la mancanza perché noi andiamo a percepirlo per farti capire quello che sto dicendo basta che tu pensi a quando ad esempio sei stata coinvolta con qualcuno oppure hai capito che qualcuno fosse coinvolto con te non c'era bisogno che questo ti chiamasse 50 volte al giorno intanto un saluto a vin dreams ciao vin ricordo che chi volesse entrare nella chat del canale massimo terramasco si può tranquillamente abbonare al corso di un caffè al mese e quindi entra nella chat e può conoscere persone interessanti tanto un saluto a vin ciao vin e quindi questo è il primo punto fondamentale no quindi le persone sbagliano a fare no contact perché magari si lo fanno nel modo corretto a livello grossolano diciamo così ma a livello energetico a livello sottile mantengono la connessione e la connessione la tengono perché continuano a direzionare i pensieri su quella persona e questo da un certo punto di vista è un grave errore perché se tu continui a direzionare i pensieri a direzionare diciamo così la tua mente su quella persona non riuscirai assolutamente a creare un distacco non riuscirai assolutamente a creare una diciamo a creare a far sentire a far percepire la mancanza indipendentemente dal fatto che tu in qualche modo stia facendo un no contact un saluto a roxy roxy rosa ciao roxy e quanto tempo ci vuole quindi beh i tempi diciamo per far percepire la tua mancanza di distacco energetico sono di praticamente 72 ore 72 ore è il tempo minimo diciamo finché una persona possa sentire la mancanza però ripeto sono 72 ore che sono tre giorni quindi fondamentalmente che tu devi in cui tu devi distaccarti completamente senza direzionare i pensieri su questa persona e paradossalmente questo accade riesce a farlo facilmente con le persone che non ti interessano ma hai difficoltà a farlo con le persone che ti interessano ora uno dice ma perché ho difficoltà a farlo con le persone che non mi interessano cioè con le persone che mi interessano mentre con quelle che non mi interessano no? beh questo dipende da un fattore molto importante che è il fatto che non sei in grado di come dire di governare i tuoi pensieri perché noi dentro di noi è come se avessimo qualcuno che pensa al nostro posto è come se avessimo qualcuno che condiziona diciamo la nostra mente e gestisce i nostri pensieri cioè è come se noi non fossimo padroni in casa nostra perché ci sono dei pensieri che spesso avvengono si manifestano a livello subliminale al di sotto della soglia di coscienza e questi pensieri non sono pensieri tra virgolette deliberatamente pensati ma sono i pensieri frutto di che cosa? frutto del rimuginare il rimuginare è un'attività che è legata soprattutto a un'abitudine cioè che molte persone hanno perché sbagliano le tematiche perché rimuginare o stare a pensare su alcune cose che sono a livello pienamente logico e razionale ha una sua funzione ma rimuginare su delle cose che non avvengono a livello logico e razionale ma che avvengono solamente a livello emozionale di fatto non ha nessuna funzione cioè se io sto a pensare a un problema logico ad esempio allora il pensare fa scendere questo pensiero in profondità e praticamente è più facile che trovo la soluzione perché la soluzione è una soluzione logica è una soluzione razionale ma se io penso invece a una persona o a una situazione che può essere una situazione sentimentale affettiva in realtà vado a sovrapporre due piani che non c'entrano nulla vado a sovrapporre un piano logico con un piano emotivo quindi come facciamo a distaccare i nostri pensieri? perché poi la cosa fondamentale è quella di imparare a scollegare i nostri pensieri e a collegarli diciamo ad altro e qua sta proprio la chiave cioè se io voglio sconnettermi da una situazione devo connettermi con un'altra cioè la nostra mente non può fare a meno di pensare il nostro cervello non può fare a meno di pensare noi pensiamo continuamente è evidente che ad esempio anche nel sonno c'è un'intensa attività di pensiero ma nel sonno l'attività di pensiero come dire un po' viene indirizzata dagli ultimi pensieri che abbiamo nell'addormentamento l'addormentamento ad esempio è una fase ipnagogica l'addormentamento e il risveglio sono due fasi molto importanti per la gestione dei pensieri perché gli ultimi pensieri tenderanno a direzionarsi in quella cosa quindi è sbagliatissimo prima di andare a dormire mettersi lì a pensare a quello che tu hai fatto no contact o che cerchi di fare no contact o che cerchi di staccarti perché se questi pensieri li metterai in atto diciamo nella fase di addormentamento è molto probabile che poi questi pensieri continuino ad alimentarsi a livello inconscio, a livello inconsapevole e quindi continuerai a mantenere la connessione continuerai a mantenere il collegamento ti ascolto mentre guido brava Roxy intanto saluto sempre Vin Dreams e Roxy Rosa e ricordo che chi volesse entrare nella chat del canale YouTube Massimo Terramasco basta che va sul canale e fa un abbonamento da un caffè al mese e poi può entrare all'interno del canale nella chat quindi chi volesse entrare nella chat del canale YouTube Massimo Terramasco basta che vada sul canale si abbona e entra tranquillamente nella chat e quindi comunque continuando in questo discorso è molto importante quindi soprattutto nella fase di addormentamento direzionate i vostri pensieri su altro cioè perché noi non potendo non pensare dobbiamo deliberatamente utilizzare dei pensieri che ci consentano di creare il distacco quindi dopo che hai quando hai imparato a direzionare i tuoi pensieri e quindi se ti viene se sorge spontaneo il pensiero diciamo della persona verso la quale vuoi fare no contact automaticamente lo dirotterai da altre parti e inserirai altri pensieri questo è fondamentale questo direi che è un punto molto importante un punto fondamentale per poter imparare a fare il no contact dopo le prime 72 ore la persona inizierà a percepire il distacco inizierà a percepire la mancanza talvolta ci vuole più tempo e e e questo tempo ah va bene sì sarebbe un piacere un piacere un corretto insieme va bene va bene se capiti in Liguria Vin e questo è questo è fondamentale il tempo quindi il minimo sono 72 ore il tempo massimo sono 21 giorni che è il tempo del famoso no contact quindi eh talvolta il no contact appunto si manifesta già dopo tre giorni cioè il fatto che la persona inizierà a cercarti però se vuoi avere la certezza diciamo così che senta veramente la tua mancanza devi portare a termine un distacco di almeno 21 giorni 21 giorni è il tempo veramente utile per riuscire a creare questo distacco se la persona casomai ti cercasse prima delle 72 ore cioè nel momento in cui tu ti distacchi magari il giorno dopo questa persona inizia a cercarti non ha sentito la tua mancanza assolutamente non può aver sentito la tua mancanza ma comunque eh diciamo probabilmente non si è mai sconnessa da te a quel punto lì eh puoi non proseguire no contact ma devi subito mettere i vincoli perché il no contact o il far sentire la mancanza ha senso soltanto se eh imponiamo dei vincoli perché poi come ho detto spesso sono i vincoli che fanno innamorare cioè noi senza vincoli non ci innamoriamo se io come dire eh non posso accedere tranquillamente a una fontana non mi innamorerò mai dell'acqua cioè della fontana che mi eroga l'acqua diciamo così anche perché nel momento in cui ho sete posso tranquillamente senza nessuna fatica accedere alla fontana e bere e bere tranquillamente senza nessuna fatica per questo motivo non potrò mai e poi mai innamorarmi di questa fontana non potrò mai e poi mai diciamo percepire la fontana come preziosa se invece inizia a provare sete e nella metafora della comunicazione la sete la sete vale diciamo la sete vale come stimolazione della mancanza allora le persone si diciamo si agganciano nel momento in cui li metterò un vincolo la fontana non è più lì pronta così ma devi fare una scalata oh un saluto anche a Nadia Carloni buongiorno poi ci sono persone che chiedono ad esempio ma vale anche per chi si aggancia sul possesso ma in realtà tutti devono desiderare cioè non ci sono persone che si agganciano sul possesso puro tutti devono desiderare poi ci sono persone che devono desiderare di più persone che devono desiderare di meno ma il desiderio deve esserci per tutte le persone cioè non esiste una persona che non deve desiderare ci sono quelle che devono desiderare e il vincolo deve essere più piccolo perché se il vincolo è troppo grosso lo rifiutano ecco quindi la calibrazione un saluto anche a Lili la calibrazione del vincolo è fondamentale quindi nel riconoscimento delle persone è molto importante capire appunto se le persone tra virgolette sono più sul desiderio e più sul possesso ma più sul possesso non significa che non devono desiderare significa semplicemente che devi mettere un vincolo più piccolo perché se metti un vincolo troppo grande si sganciano e il vincolo e che cos'è è la condizione certo che se uno mi dice guarda se mi vuoi devi venire sulla luna e io magari gli dico cavolo sulla luna non riesco a andarci è inutile che sto lì a inseguire una persona che se la voglio deve andare sulla luna se invece mi dice io sono a tre chilometri di distanza magari tre chilometri li faccio mentre invece diciamo ci sono persone che si agganciano proprio se gli dici devi trovarmi sulla luna non potranno mai venire sulla luna non potranno mai venire sulla luna però 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 faranno tutti i tentativi per andare sulla luna e si innamoreranno di più perché quelle sono proprio le persone che si innamorano se non possiedono no? se vogliono avere zero possaggio sono le persone ma questo vale anche nella vita quotidiana eh sono le persone che si innamorano quante malgascione vecchie rimbambite si innamorano del poster di Brad Pitt per fare un esempio e si mettono sto poster di Brad Pitt in cucina ma anche non soltanto malgascione talvolta anche questo avviene nelle ragazze giovani no? si innamorano del cantante rock si innamorano di Brad Pitt dell'attore famoso si mettono il poster in cucina gli scrivono lettere gli mandano cose con una persona che non incontreranno mai che non avranno mai possibilità di vedere non avranno mai possibilità di conoscere mai possibilità di incontrare ho un saluto anche Ilaria ma come ho detto prima non è che si tratta tutti si agganciano sul desiderio e tutti si agganciano sul possesso allora come fare a capire ci sono diverse modalità a livello non verbale per cui la prima risposta ecco chi volesse capire esattamente perché ho fatto diversi video su questo vado sul canale YouTube Massimo Terramasco si iscriva e abbonandosi potrebbe diciamo guardando tutti i video ce ne sono 20.000 potrebbe trovare la risposta però per dare una risposta sintetica intanto i vincoli devono essere graduali gradualmente crescenti quindi bisogna iniziare da un vincolo piccolo e poi anche perché non esiste una dicotomia quello che si aggancia sul desiderio e quello che si aggancia sul possesso è tutto un cappuccino quindi c'è chi vuole è la gradazione senza soluzione di continuità di un cappuccino ci sono persone che si agganciano su una cosa persone che si agganciano su un'altra ma è un cappuccino dove il latte è il desiderio ad esempio e il caffè è il possesso quindi le varie gradazioni diciamo sono infinite certo il desiderio il latte ci deve essere sempre altrimenti non è un cappuccino è un caffè quindi il latte quindi il desiderio ci deve essere sempre in alcuni casi di meno in alcuni casi di più quindi per capire diciamo in modo spannometrico vediamo come la persona reagisce quando noi ci allontaniamo le persone che si agganciano sul desiderio diciamo così loro tenderanno a coinvolgersi molto rapidamente quando una persona scappa chi si aggancia sul possesso ci impiega un po' più di tempo tra virgolette poi si agganciare sul possesso ripeto è una terminologia errata fondamentalmente però questo è lo capisci dal tipo di risposta che ti dà poi ci sono una serie di segnali non verbali che nei video trovate comunque allora quindi dicevo oggi parliamo di tempi la cosa molto importante la cosa salutiamo anche Ilaria comunque Nadia Carloni il nostro ingegnere Nadia Carloni la collega la collega la cosa importante rendersi conto che le persone che veramente si agganciano sul desiderio non devi mai farti possedere devi veramente diventare il poster di Brad Pitt sono persone che vivono di illusioni ecco diciamo che tendono a avere un pensiero idealista un pensiero che si nutre di illusioni ma questo vale anche e si innamorano proprio quando le situazioni sono difficili ad esempio tutte le donne che si innamorano di uomini si innamorano quando il vincolo è alto tutte le donne che si innamorano di persone sposate o persone impegnate perché hanno un grande vincolo e poi si nutrono di illusioni si nutrono ad esempio dell'illusione che lui possa lasciare la moglie questa è un qualcosa questa è un qualcosa fondamentale no nutrirsi di illusioni diciamo ti porta ovviamente a stati di sofferenza perché mentre la parte emotiva può anche godere del fatto che ti innamori del posto di Brad Pitt la parte logica sa che stai facendo una cazzata cioè dentro di te la consapevolezza c'è e lì quando la parte emotiva prende totalmente il sopravvento sulla parte logico razionale quindi la persona entra in uno stato delirante fondamentalmente no ma senza arrivare a innamorarsi di Brad Pitt anche quelli che si innamorano di persone impegnate di persone sposate e sperano che lui lascia la moglie poi qualcuno ti dice no vabbè ma ci sono uomini che lasciano la moglie per l'amante certo che ci sono io non sto mica dicendo che non ci sono come ci sono quelli che giocano al superanalotto fanno sei e diventano multimiliardari ma se ti dicessi se vuoi campare prova a vivere giocando al superanalotto vedi se riesci a vivere e a campare giocando al superanalotto è molto più probabile che tu muori di fame e che perdi anche i soldi che eventualmente avevi i tuoi risparmi che hai in banca piuttosto che piuttosto che sfamarti e diventare ricca giocando al superanalotto poi certo se mi fai un discorso c'è qualcuno che però se arricchisce al superanalotto va bene certo qualcuno c'è ma sono pochi la maggior parte è come dire vai a giocare vai a giocare al gioco d'azzardo qualcuno si arricchiera pur ma la maggior parte si impoverisce quindi non è una strategia dire vuoi lavorare vuoi guadagnare inizia a giocare al superanalotto giocati tutta la pensione perché voi ormai siete anziani non avete più lo stipendio avete la pensione giocati tutta la pensione al superanalotto vedrai che diventerai ricca no più probabile che diventerai povera diciamo così no e quindi e lo stesso discorso vale vale nella nella seduzione vale nella seduzione poi le persone che si agganciano sul desiderio in realtà resteranno sempre innamorate di qualcuno che non hanno mai posseduto questa è un'altra cosa interessante quelle persone nostalgiche che hanno un amore che non è stato esatto un ingegnere potrebbe partorire l'ingegneria della seduzione esatto esatto Nadia e questo è un qualcosa che dobbiamo tenere presente no persone che si agganciano fortemente sul desiderio l'unico vero amore sarà quello mai posseduto mai realizzato l'amore come dire impossibile l'amore impossibile sarà l'unico amore della loro vita quello che non saranno mai riusciti a concretizzare perché chi ha forte bisogno di desiderio forte forte non deve concretizzare niente perché nel momento in cui concretizza va subito a a perdere ma torniamo ai tempi quindi quali sono i tempi abbiamo detto sono da tre giorni a tre settimane quindi il numero tre torna cioè un minimo di tre giorni un massimo di tre settimane per percepire la mancanza di una persona e allora è per questo che il no contact per sicurezza diciamo dobbiamo fare almeno tre settimane 21 giorni da tre giorni a tre settimane è ovvio che poi il numero tre torna perché ci sono anche i tre mesi i tre mesi è il tempo oltre il quale inesorabilmente diminuiranno le possibilità di aggancio quindi vedete che il magico numero tre torna sempre e poi io credo ci siano anche i tre anni no i tre anni è un tempo di possibile ritorno comunque quindi sono tre giorni tre mesi tre anni cerchiamo di capire un attimino questi tempi come sono no tre giorni tre settimane tre mesi tre anni sempre il numero tre che continua costantemente a tornare tre giorni è il tempo minimo per sentire la mancanza tre settimane cioè 21 giorni diciamo tre settimane è il tempo necessario certo per far sentire la mancanza una persona è ovvio che poi c'è tutta un'elaborazione a livello cognitivo per cui questa elaborazione a livello cognitivo passati le tre settimane può perdurare cioè nel senso che la persona percepisce la tua mancanza però inizia soprattutto gli iperlogici a elaborare l'informazione per cui magari ti contatterà entro tre mesi per cui tre mesi da tre settimane a tre mesi è un tempo che devi attendere non perché non abbia sentito la tua mancanza ma perché ha messo magari dei vincoli a livello logico e razionale si è messo a lui degli autovincoli per cui magari non ti cerca non ti cerca ma in realtà il coinvolgimento in realtà il coinvolgimento c'è sì esatto questo per Roxy Rosa sì chi si innamora degli amori mai posseduti degli amori impossibili sono le persone che hanno un forte diciamo una forte connotazione sul desiderio esatto quindi tornando ai brava Roxy la nostra Roxy quindi ricordo a tutti che chi volesse entrare nella chat intanto salutiamo anche Rosy chi volesse entrare nella chat del canale Massimo Terramasco intanto vi invito ad iscrivervi anche gli amici di Instagram gli amici di TikTok andate a iscrivervi al canale Massimo Terramasco ma anche agli altri miei canali ovviamente l'iscrizione è completamente gratuita e avrete accesso a tanti video attivate la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video e quindi questo è la cosa poi chi si iscrive a tutti e quattro i canali entra a far parte della più grande community italiana per quanto riguarda la seduzione la crescita personale il benessere esistenziale quindi i quattro canali YouTube che sono Massimo Terramasco crescita personale con Massimo Terramasco felicità benessere amore autostima potrà entrare a far parte anche di gruppi Telegram dove magari fare nuove conoscenze in più ricordo che su tutti i canali YouTube c'è la possibilità di abbonarsi e abbonandovi potrete avere la possibilità di avere qualcosa di più tipo domande risposte tipo insomma altre cose avrete la possibilità di per così dire oppure anche il Master Consulting c'è anche una telefonata insomma ci sono tante possibilità vedete un attimino di andare a iscrivervi oppure abbonarvi anche ai canali allora andando avanti col discorso quindi tre giorni tre settimane tre mesi tre anni sono i tempi del distacco chi volesse fare domande ricordo che chi volesse fare delle domande deve andare invece ad abbonarsi al canale crescita personale con massimo terramasco perché sul canale crescita personale con massimo terramasco faccio delle live domande risposte appositamente per voi quindi non fatemi le domande su tele su instagram su tiktok perché l'unico canale diciamo così di risposta in chat alle domande è il canale youtube crescita personale con massimo terramasco tramite abbonamento quindi tornando al discorso così abbiamo specificato questa volta speriamo che sia chiaro e invece allora vediamo i tempi di torniamo i tempi tre giorni tre settimane tre mesi tre anni allora abbiamo detto tre giorni è il tempo minimo affinché posso sentire la mancanza tre settimane è il tempo certo in cui sente la mancanza da tre settimane a tre mesi è il tempo di elaborazione per cui una volta che sono passati i 21 giorni le tre settimane dovete avere pazienza fino a tre mesi perché questa persona entro tre mesi diciamo potrebbe elaborare quindi impiegare ancora del tempo dopo le tre settimane prima di contattarvi sente la mancanza ma ha dei meccanismi di difesa interni per cui aspetta a scrivervi quindi voi non potete assolutamente diciamo contattarlo passate le tre settimane se volete qualcuno può fare qualche test passate le prime settimane può fare qualche test di orbiting l'orbiting volendo potete farlo ma l'orbiting che cos'è? è semplicemente ad esempio mettere un like a un post questa è l'unica cosa che potete fare diciamo dalle tre settimane ai tre mesi se ovviamente in tre mesi non non ti scrive più dai tre mesi diciamo in poi c'è un decadimento diciamo c'è un decadimento che arriva fino a sei mesi diciamo così e quindi le probabilità dopo i tre mesi allora dopo i tre mesi potete magari provare a mandare un messaggio test tra i sei mesi se queste cose qua non funzionano dovete lasciarlo nel suo brodo per tre anni perché tre anni è il tempo del ritorno perché questo vale soprattutto per chi ha iniziato altre storie è statisticamente probabile che l'altra storia che ha iniziato vada dal culo dopo tre anni circa e quindi dopo tre anni si possono eventualmente manifestare fenomeni regressivi è ovvio che qua qual è il problema il problema di fondo in questo caso è che uno non è che può stare lì aspettare tre anni che quello torni è ovvio che anche tu in questi tre anni devi farti delle storie devi farti delle cose devi fare devi fare delle delle attività devi avere delle tue relazioni se poi le relazioni vanno bene amen e guardi un altro capitolo se per caso come dire anche per te c'è un ritorno e c'è una coincidenza di possibilità perché no dopo tre anni però anche in questo caso vale sempre il posizionamento del vincolo ricordiamoci sempre che senza vincolo siete vinculati chi vincola vincula chi subisce il vincolo viene vinculato quindi volete vincolare o essere vincolati dipende da voi se volete essere vincolati accettate il vincolo che vi mette l'altra persona se volete vincolare mettete voi il vincolo il vincolo vincola diciamo così che cos'è il vincolo che vincola sono le diciamo sono le condizioni che noi andiamo a mettere ed è veramente importante utilizzare al meglio i vincoli i vincoli sono le condizioni i vincoli sono le condizioni e ovviamente c'è c'è un altro discorso perché aspettarsi il ritorno qualcuno giustamente dice ma non è che uno deve aspettarsi il ritorno o non aspettarsi il ritorno devi capire a monte se quella persona ha i tuoi stessi valori le tue stesse credenze eccetera perché in alcuni casi può essere una benedizione il fatto che la persona si tolga dei coglioni anzi diciamo così che io ho dato per scontato il fatto che uno diciamo ha fatto un'analisi e ha capito che quella persona potrebbe essere veramente la persona giusta per lui potrebbe essere una persona con la quale intraprendere un percorso di vita assieme perché se tutto questo non sussiste se una persona ha un qualcosa completamente diverso dal tuo uno stile di vita completamente diverso dal tuo il fatto che ti ha lasciato è una benedizione e quindi fuori dai coglioni ti ha dato praticamente un'opportunità l'opportunità di toglierti dalle palle una persona che si è autotolta dalle palle fondamentalmente e quindi fuori dai maroni quindi io ho dato ovviamente per scontato questo perché altrimenti è come dire vai a accendere un cera la madonna che ti ha lasciato e ti ha tolto il fastidio di lasciare tu e via è fuori dai coglioni cioè le persone tossiche se se ne vanno meglio e purtroppo tornano anche le persone tossiche il problema è quello anche il narcisista ad esempio ritorna per cui per cui è molto importante diciamo per cui è molto importante capire se ha a che fare con una persona tossica e se e se una persona tossica si toglie autonomamente dalle palle meglio così fuori dai coglioni cioè non devi neanche più dedicare un pensiero e non devi neanche più coltivare diciamo la speranza di un ritorno anche perché il ritorno in quel caso lì sarebbe nefasto cioè non tanto il ritorno sarebbe nefasto quanto l'accettazione di nuovo di intraprendere una relazione con questa persona sarebbe estremamente nefasta quindi è molto importante guardare oltre andare oltre e e superare ovviamente questi blocchi e poi le persone tossiche o non tossiche ci sono persone che sono tossiche in senso oggettivo tipo i narcisisti sono tossici per tutti diciamo così poi ci sono persone che sono tossiche per noi ad esempio come dire un libertino non è detto che sia tossico come dire può essere tossico per chi vuole mettere su famiglia ad esempio cioè questo oh Roberta Giraud ciao ricordo chi volesse entrare nella chat però dovrebbe abbonarsi al canale perché questa chat richiede l'abbonamento quindi Roberta dovresti tanto cosa un caffè al mese fare l'abbonamento e entrare nella chat e la chat è solo per abbonati quindi questo dobbiamo tenerlo presente è una cosa fondamentale le persone tossiche per noi sono quelle che hanno valori credenze una visione della vita completamente diversa dalla nostra ma non è detto che siano tossiche in assoluto ad esempio una persona sposata è tossica per chi vuole mettere su famiglia se tu vuoi mettere su famiglia e ti agganci a una persona sposata che la famiglia c'era già è evidente che questo è un qualcosa di tra virgolette tossico mentre invece per uno che vuole mentre invece per uno che vuole diciamo come dire viversi delle trasgressioni una persona sposata è l'ideale perché non ti rompi i maroni perché la spesa va a farsela con il marito la moglie o chi per esso la sera non ti rompi i maroni perché sta col marito nelle feste comandate non ti rompi i maroni perché sta col marito o con la moglie e diciamo ti vivi dei momenti di trasgressione se il tuo obiettivo è vivere una trasgressione questo è fondamentale mentre invece una persona impegnata potrebbe essere tossica per chi vuole mettere su famiglia perché quella la famiglia c'è già e non ha nessuna intenzione di lasciarti fondamentalmente di lasciare il marito o la moglie quindi ci sono tante cose se una persona ha una visione della vita completamente diversa dalla tua uno stile di vita completamente diverso dal tuo per te è tossica ma non è che sia tossica in assoluto mentre invece le persone narcisiste le persone diciamo incapaci di dare amore fondamentalmente i manipolatori le persone i narcisisti maligni soprattutto quelli che vogliono danneggiare e beh questa tipologia di persone invece è tossica in senso assoluto cioè chiunque interagisce con quelli cioè sono persone che non vanno bene per nessuno quindi vanno scartate a prescindere da quelle che sono le cose quindi non dobbiamo tenere dobbiamo tenere presente questa cosa fondamentale bene questi sono i tempi diciamo che valgono nella seduzione sono i tempi che valgono nel coinvolgimento e sono i tempi che utilizzate che dovete imparare ad utilizzare per far sentire la mancanza però quello che diceva all'inizio torno a ripeterlo perché è un punto fondamentale dovete imparare a sconnettervi mentalmente perché se voi siete connessi mentalmente potete stare anche 30 anni ma la persona non sentirà mai la vostra mancanza perché perché diciamo perché se voi dopo l'abbonamento pronunciate le esperienze ma che esperienze ma vatti a vedere il mio curriculum ogni tanto ci sono i bimbi minchia che parlano cioè io ho elaborato un metodo scramato vabbè non si che do spiegazioni ai barboni comunque quindi andiamo avanti col discorso ho un saluto anche a Barbara Costa quindi tornando al discorso precedente dobbiamo gestire questi tempi e soprattutto gestire i nostri pensieri dobbiamo imparare a gestire i nostri pensieri e questo è un qualcosa di fondamentale quindi come dicevo all'inizio se non sappiamo di staccare i nostri pensieri non faremo no contact ah beh ma solo tu chi è questo AT1 cazzo cazzi e mazzi vai a vedere su google digita su google mi conosce il mondo cioè sono il numero uno questo è il numero uno in Italia e presso in Europa sulla seduzione quindi vai a vedere su google digita digita e vedrai e vedrai tutti i libri tutte le cose il metodo scritto da me ci sono direi come video almeno 30.000 video tra tutti i canali quindi non stai a romper i maroni prima scrivi tre libri e poi fai 25.000 video e poi parli e se no stai zitto allora quindi andiamo avanti con il discorso quindi no stavo dicendo è fondamentale imparare a staccarsi diciamo imparare a staccare i propri pensieri imparare a imparare a staccare i propri pensieri imparare a come possiamo dire a sconnetterci a livello mentale altrimenti sì sì ma infatti no ma ogni tanto rispondo anche al bimbo minchia perché ogni tanto rispondo anche al bimbo minchia a Barbara Costa tanto per comunque butta questa mi invidia detto questo vedo che ci sono un po' di persone connesse quindi ricordo che chi volesse entrare nella chat del canale youtube Massimo Terramasco può con un caffè al mese abbonarsi poi invece chi vuole entrare nella chat domande e risposte il canale crescita personale con Massimo Terramasco insomma vedete che ogni canale ha i suoi abbonamenti e potete tranquillamente abbonarvi e valutare insomma le cose che vi interessano bene detto questo ci vediamo presto un saluto a tutti un saluto a tutti e salutiamo quindi Barbara Costa Vin Andrea Cerato Roberta poi chi c'è qua connesso Roxy Rosa Rosi Roxy Rosa e Rosa Nadia Ilaria Lili mi sembra Barbara eccola qua Ilaria Andrea e un saluto a tutti e ci vediamo e ci vediamo presto ci vediamo presto quindi buona giornata a tutti ciao a tutti vediamo un po' di chiudere grazie grazie